... L'anteprima del nostro telegiornale, alcune delle notizie di cui ci occuperemo tra poco nella nostra edizione. Innanzitutto parleremo dell'arresto a Forio di un polacco che era ricercato per traffico internazionale di droga. C'è poi la truffa dei cellulari team ad Ischia, il negoziante Lucio Pilato ha patteggiato una pena a due anni, pena sospesa. Per un incidente stradale è stato aggredito ieri sera un autista della Super Eco a Forio, è stato trasferito a Napoli in gravi condizioni. E c'è ancora un incendio sulla nostra isola, in fiamme una vasta zona del Toccaneto a Barano. La pillola del giorno dopo, ne parliamo col dottor Carmine Barile, di questo e di altro ancora ci occuperemo come sempre dopo la pubblicità. Il ristorante La Beccaccia Emozioni uniche tra il cielo e il mare Immerso nel verde del suo giardino tropicale, Hotel Terme Colella La vacanza ideale per chi sceglie l'isola di Ischia Camere categorie economy, standard e vista mare Tutte le camere attrezzate con servizi, con balcone o terrazzo Hotel Terme Colella Reparto termale attrezzatissimo per bagni, fanghi, massaggi, cure inalatorie e cure estetiche Terapie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale Centro benessere Due piscine termali, di cui una coperta con idromassaggio Ampia terrazza solarium ed un'attrezzata palestra Serate piano bar Cucina con specialità ischitane e tre menù a scelta Ampia scelta di pietanze senza glutine Sono ammessi animali di piccola taglia Ampio parcheggio gratuito A Forio A 700 metri dal mare A pochi passi dal centro storico Hotel Terme Colella In una cordiale ospitalità familiare La vacanza ideale sull'isola d'Ischia La Conchiglia Nel centro di Forio Collane, accessori, souvenir e tanto altro ancora La Conchiglia ti propone un'attenta selezione di prodotti artigianali ischitani ed italiani Vastissima produzione propria di collane Anelli e bigiotteria In argento, corallo e pietre semipreziose Personalizziamo la tua collana e il tuo anello Rendendo i tuoi gioielli un prodotto unico e in piena sintonia con la tua persona Approfitta del laboratorio in sede per riparare o aggiornare le tue collane In via Erasmo di Lustro dal 1973 La Conchiglia Tuffati in un mare di colori e preziose fantasie Sull'isola verde nel centro di Ischia Dico Hotelso Quattro alberghi, quattro stelle A quattro passi dal mare Terme, piscine, beauty center Spiaggia Per una vacanza tra comfort, relax e benessere Il gruppo Dico Hotels ti propone Hotel Royal Terme Il classico Per comfort e benessere Hotel Parco Aurora Terme Una finestra sul mare Per emozioni uniche Hotel San Giovanni Terme L'Elegante Con ampio giardino attrezzato Hotel La Villa Rosa Terme Piccolo, raffinato, riservato e nel verde Centro prenotazioni 081 99 20 22 Info www.dicotels.it La Dico Hotels Offre l'ingresso gratuito Al Parco Termale Castiglione Per tutto il periodo del soggiorno Dico Hotels Quattro stelle A quattro passi dal mare Al centro di Ischia Comfort e relax Per il tuo benessere Droga La polizia resta un polacco ricercato per traffico internazionale L'uomo era destinatario di un ordine di cattura emesso dalla procura della Repubblica di Roma Era stato arrestato nel 2006 all'aeroporto di Fiumicino trovato con la droga nell'intestino Truffa Tim Lucio Pilato patteggia e resta libero Il cinquantenne ischitano difeso dall'avvocato Antonio De Girolamo era accusato di truffa Per false denunce di furto di telefoni cellulari Forio aggredito autista Super Eco Trasferita a Napoli in moto vedetta L'uomo Gaetano Balirano è stato aggredito alle spalle A seguito di un incidente nel quale aveva investito un'auto Provocando ingenti danni alla vettura Viste le condizioni critiche è stato trasferito a Napoli Ancora incendi sull'isola Dischia Fiamme in un'ampia area a Toccaneto Il fuoco ha distrutto un ettaro e mezzo di macchia mediterranea Il fumo alto in cielo visibile anche dall'altra parte dell'isola Sul posto in azione è anche un elicottero dei vigili del fuoco Dottor Barile, la pillola del giorno dopo è importante principalmente per i più giovani La pillola del giorno dopo permette di evitare una gravidanza in seguito ad un rapporto non protetto Ha un ruolo importante nel ridurre i casi di aborto nelle fasce più giovani della popolazione Spiega il dottor Carmine Barile Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia Un ettaro e mezzo di macchia mediterranea è andata in fumo oggi nella zona boschiva di Toccaneto Nel territorio del comune di Barano L'incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio in una cava profonda È stato tanto intenso da essere visibile anche da casa Micciola Addirittura l'odore di bruciato era percepibile in piazza Maio Per cui molti hanno pensato si poteva trattare di due incendi diversi Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ischia Il gruppo cotto regionale di Barano I volontari Smau e un elicottero La zona è molto difficile da raggiungere Per cui i pompieri hanno avuto molte difficoltà Inoltre il forte vento e la secchezza della vegetazione Hanno fatto progredire le fiamme con molta velocità L'incendio comunque è stato spento verso le 19 Una brillante operazione compiuta dagli uomini Del commissariato di pubblica sicurezza di Ischia Agli ordini del dirigente, il vicequestore aggiunto, il dottor Mannelli Nel primo pomeriggio di ieri Al commissariato di Ischia Dalla sala operativa della questura di Napoli È giunta la notizia della presenza di un uomo Di nazionalità polacca che alloggiava presso la struttura ricettiva Villa Rita In località Scannella nel comune di Forio L'uomo risultava ricercato perché destinatario di un ordine di cattura Emesso nei suoi confronti dalla procura della Repubblica di Roma nel 2013 In quanto doveva scontare la pena di un anno Sei mesi e dodici giorni di reclusione Per traffico internazionale di sostanze stupefacenti Raggiunta la struttura alberghiera I poliziotti hanno rintracciato l'uomo Mentre si trovava in piscina completamente ignaro Del provvedimento a suo carico Il polacco non era certo un tipo da passare inosservato Trattandosi di un soggetto alto un metro e novanta Fisico possente da palestrato E con diversi tatuaggi sul corpo I poliziotti con grande professionalità e discrezione Sono riusciti a portare in disparte il soggetto Senza creare disturbo alle persone presenti Sulla piscina dell'albergo Che quasi non si sono accorti Della presenza degli agenti Il ricercato è stato poi identificato per Radoslav Kasprowicz Nato in Polonia Il provvedimento di cattura nei suoi confronti Scaturisce dall'arresto eseguito nel 2006 Quando proveniente con un volo di linea Da Charles Roy in Belgio E giunto all'aeroporto di Fiumicino Venne sottoposto ad un controllo Perché fortemente sospettato di occultare All'interno del proprio corpo E precisamente nell'intestino Della sostanza stupefacente Infatti il controllo radiografico Eseguito sul corpo Evidenziò la presenza all'interno Della cavità addominale Di numerosi corpi estranei Ben 96 ovuli Contenenti complessivamente Oltre un chilo di cocaina La droga fu sequestrata E l'uomo quindi arrestato Ad oggi risulta essere Un militare di carriera Dell'esercito polacco Con il grado di caporal maggiore E dopo l'arresto di ieri È stato messo a disposizione Dell'autorità giudiziaria E trasferito quindi Presso il carcere di Poggio Reale di Napoli Per scontare la pena Di un anno Sei mesi e dodici giorni È stata celebrata il 14 luglio L'udienza di patteggiamento Nei confronti di Lucio Pilato Il cinquantenne titolare Di un negozio di elettrodomestici E di rivendita di telefonia mobile Sito a Dischia Nella via Alfredo De Luca Arrestato lo scorso 24 marzo Con l'accusa di falsità materiale Commessa da privato Contraffazione delle impronte Di pubblica autentificazione O certificazione E di truffa Il Pilato aveva prodotto Falsi verbali di denunze Di furto di telefoni cellulari Inviati alla società Assurant Services Che indotta in errore Inviò 30 telefoni cellulari Al Pilato Che così si procurava Un ingiusto profitto Il giudice per le indagini preliminari Del Tribunale di Napoli Dottoressa Alessandra Ferrigno Ha disposto per il Pilato Difeso dall'avvocato Antonio Di Girolamo Una pena finale Di due anni di reclusione Così come concordato Tra le parti Concedendo la sospensione Della pena La pena concordata Tra le parti E scritto nella sentenza Può definirsi Congra all'entità complessiva Del fatto Anche con il riconoscimento Delle attenuanti generiche Per il comportamento Processuale del Pilato In considerazione Dell'entità della pena Continua il dispositivo E della incensuratezza Dell'imputato Può certamente Concedersi La sospensione Condizionale Della pena Potendosi considerare Occasionale Il comportamento Delinquenziale Adottato E non reiterabile In futuro Un incidente stradale Finito in aggressione Accaduto ieri sera Fuorio Intorno alle 22 Quando un automezzo Pesante Quattro assi Della ditta Super Eco Adibito a trasporto Rifiuti In fase di uscita Dall'incrocio Di via Spinavola La strada Del campo sportivo In direzione L'acquameno Ha investito Un'auto Una panda Che si trovava Alla sua destra La vettura guidata Da una donna Ha riportato Ingenti danni L'autista del camion In otto Validano Era sceso Dalla cabina E con la donna Stavano compilando Il modello CID Quando è stato Aggredito alle spalle Da ignoti Con un corpo Contundente L'uomo Si è accasciato A terra Primo di sensi Sul posto Sono giunti I carabinieri Ed i sanitari Del 118 Che hanno trasportato Ninotto All'ospedale Rizzoli Di l'acquameno Qui Costatata La gravità Delle condizioni Con una ferita Alla testa E la mascella rotta I sanitari Ne hanno deciso Il trasferimento A Napoli Avvenuto Con la moto vedetta Della guardia costiera Il consigliere comunale Del volo di Forio Vito Iacono Esprime la sua Personale ed umana Solidarietà All'autista del camion Della NU di Forio È una vergogna Non si può rischiare Di morire così Dice Vito Iacono Con danno Un gesto di violenza Ingiustificabile Ai danni di un onnesto Lavoratore Nell'esercizio Delle sue mansioni Ed anche Ciro Piro Dirigente della Super Eco Che è l'azienda Che si occupa Della raccolta E smantimento Dei rifiuti a Forio Esprime la sua solidarietà E quella dell'azienda Al dipendente Un'aggressione vile Commenta Ciro Piro Sono anni che Durante l'estate Incontriamo Enorme difficoltà Ogni volta Che dobbiamo Trasportare i rifiuti In terraferma Con i vertici aziendali Dice Piro Ci costituiremo Parte civile Nel processo Che ci auguriamo Si aprirà Nei confronti Degli aggressori Il sindaco di Procida Dino Ambrosino Mette all'angolo Il sindacato Dei vigili urbani Dicap Il sindaco spiega Per mesi Sin dall'inizio Del nostro mandato Siamo stati vessati Dal sindacato Dicap Denunce Querele Proteste Interrogazioni In consiglio comunale Tutto puntualmente Mandato Prima sui giornali E poi sulla nostra scrivania Dice il sindaco di Procida Per creare il caso Ed emettere un giudizio Prima ancora Di verificare La correttezza Delle contestazioni Così accade anche Che venti giorni fa Il Dicap Mette causa Al comune di Procida Per comportamento Antisindacale Perché il comune Non aveva concesso Un'assemblea Ai vigili urbani L'8 maggio Dalle 18 alle 20 In contemporanea Con la processione Di San Michele Solo che Il giudice Approfondisce L'argomento E certifica Che è il Dicap A non poter esercitare Le prerogative sindacali Perché da anni Non ha i requisiti Il comune di Ischia Dopo le elezioni Per Luciano Venia Che è stato capolista Di Forza Italia Nella coalizione Antagonista A quella del sindaco Eletto Enzo Ferrandino È tempo di voltare pagina Credevo Nella discontinuità Con il passato Ma così non è stato Dice Venia Sentiamo La valutazione elettorale Per quanto riguarda Il centrodestra Ed il ruolo Che ha avuto Il capolista Di Forza Italia Col candidato sindaco Gianluca Trani Luciano Venia Un risultato Probabilmente Della lista Che forse ci si aspettava Con qualche voto in più Ma anche i sindaci Non riescono a eleggere I loro uomini Perché il sistema elettorale È particolare Credevo Che passasse L'idea Della necessaria Discontinuità Radicale Verso il passato Questo non è stato Auguri Al nuovo sindaco Credo Che però Le forze in campo Siano Insufficienti Per affrontare Una crisi Del sistema Come quello di Ischia La prima settimana Di luglio A Ischia Contrariamente Alle aspettative È andata malissimo Tranne panini Bibite e crocchè Mi pare che ci sia Una profonda Crisi economica Perché c'è una crisi Del territorio C'è una crisi Del nostro turismo C'è una crisi sociale C'è bisogno Di rilanciare Il comune di Ischia E l'isola di Ischia Per fare questo C'è naturalmente La necessità Di un lavoro Ordinario Delle istituzioni locali Ma non basta Ci troviamo In una situazione Eccezionale C'è bisogno Di un apporto Straordinario Quindi io credo Che ci sia bisogno Della mia presenza Io annuncio Sin d'ora Che metto a disposizione Il mio tempo La mia intelligenza La mia professionalità Per servire ancora Il mio paese Perché ritengo Che Ischia Abba bisogno Di avvocati Che difendano Il cittadino E il territorio E in questa chiave Annuncio Per i prossimi giorni Già una prima serie Di iniziative Perché ritengo Che con le elezioni Dell'11 giugno Si sia chiuso Un ciclo E se ne sia aperto Un altro Un altro ciclo C'è un sindaco eletto Gli abbiamo fatto Gli auguri E lo aspettiamo Alla prova Dei fatti Per legge È il sindaco Che nomina Il revoco Agli assessori Quindi non può Essere tirato Per la giacca Non può subire Pressioni E quindi ci aspettiamo Che questo sindaco Interpreti pienamente Ciò che la legge Gli assegna E per quanto ci riguarda Staremo a premiare Col sostegno Le iniziative positive Per il nostro paese Il paese che amiamo E a fare Il nostro dovere Di denuncia Di critica E di azione Se invece Le cose Non saranno fatte O saranno fatte male Sui temi Del comune unico Della sanità E dei trasporti Si è consumata La conferenza stampa Ischitana Di Forza Italia In un monologo Privo di anima propulsiva E nel richiamo Di convenienza Di quello che sarà fatto Sulle tematiche Trattate nei cinque anni Di legislatura Caldoro E questo il commento Di Nicola Lamonica Una conferenza Dice Lamonica Che definisco Scialba Certamente priva Di ogni novità Dal momento che evita Di trattare Il nuovo contesto Politico regionale Ed il ruolo Che intende assumere Forza Italia In consiglio regionale Tutti i problemi Affrontati Sono stati raccontati Con evidente distacco Dalla realtà In cui vive l'isola E senza alcun momento Di sana autocritica Turismo low cost Sull'isola d'Ischia Interviene Giancarlo Carriero Dell'albergo Della regina Isabella Di Lacquamena Ognuno può fare I propri prezzi Ma così si sta Svendendo Ischia E questo è il vero errore Che si sta commettendo Sentiamo Carriero Con l'ingegner Carriero Parliamo di turismo low cost Certamente non è il vostro turismo Però è un turismo Che vi gira attorno Io personalmente Ritengo Sinceramente Seriamente Che ognuno Parlo degli alberghi Dei nostri concorrenti Ha il diritto Di fare i prezzi Che ritiene Ormai Le tariffe Ufficiali Quelle fisse Rigide Che c'erano Svariati Anni fa Non esistono più E prevale La dinamicità Delle tariffe Quindi ognuno Ha realmente Il diritto Di fare quello che vuole Quindi io non critico Assolutamente La scelta in sé Di fare Dei prezzi Molto basi Possiamo dire Mercato libero Ma poi le stelle Che fine fanno? Dunque Ci vorrebbe Un maggiore controllo Da parte di chi è addetto A ciò Alla qualità Del servizio E che corrisponde Al numero di stelle Perché possono fare Le altre aziende Alberghiere Possono fare I prezzi che vogliono Però è chiaro Che se hanno avuto Un numero di stelle Quando avevano Dei prezzi E quindi Dei servizi Di un certo livello Adesso Se si pongono Liberi Ribadisco ancora Di farlo In un livello Più basso Bisognerebbe Adeguare le stelle Ma non per altro Per dare La giusta Informazione Al turista Che si avvia A prenotare In quella struttura Un'altra domanda Che ti faccio È che Ischia Con tante proposte Di bassi prezzi Sembra Svendersi Come immagine E come proposta Sì Ecco Questo è il vero A mio giudizio Il vero peccato E anche un po' Il vero errore Che si sta commettendo Ischia Ischia Ha delle unicità Da un punto di vista Di bellezza E di proposta Turistica Che sono veramente Straordinarie Guardate Che la ricchezza Allora Non siamo certamente L'unico posto Al mondo Di acque termali Ma siamo Probabilmente L'unico Al massimo Ce ne sta un altro Nuova Zelanda Che ne so io dove Che ha Talle varietà Di diverse acque termali Allora Noi Abbiamo Delle unicità Di questo Livello E dobbiamo Venderci Grazie al prezzo Più basso Mi sembra Un grandissimo errore Il progetto di Fincantieri Per l'approdo Delle navi Da crociera A Casamicciola Prosegue la nostra Inchiesta Tra favorevoli E contrari Ascoltiamo questa sera L'opinione Di Fausto Silvestro Navi da crociera A Casamicciola Con la presentazione Del progetto Per l'approdo La parte di Fincantieri Un ulteriore passo in avanti Verso questa direzione Sì Sicuramente sì Il progetto Presente da Fincantieri Per la parte a mare Ritengo sia valido Con Con Il sistema Di pontili Retrattili Per la parte a terra Va rivisto Perché non è Da prendere assolutamente In considerazione Il discorso Del Pio Monte Della Misericordia Dove si vorrebbe fare Un parcheggio Per auto e bus Che è assolutamente Non proponibile Anche perché Il Pio Monte Della Misericordia È una risorsa Sotto il profilo Storico Culturale E termale Del nostro territorio Quindi quello va Valorizzato In questa ottica Non certamente Per diventare un parcheggio In ogni caso La parte a mare È sicuramente interessante Ma soprattutto Penso che Dalla riunione All'hotel Manzi Sia venuto fuori La linea Da seguire E giustamente Il sindaco Ha individuato Quello che È il discorso Da fare In regione Allargare Ampliare L'area portuale Che è del porto Di Casamiccio Integrando anche La parte dove si Vogliono posizionare I pontili E far diventare Quindi anche Quella parte Integrante Del porto Fatto questo Si possono risolvere Tutte le problematiche Collegate Ai dividi Dall'area marina Protetta Perché l'area Marina protetta Già prevede Nel suo statuto Che le navi Crociere Nella fascia Ci possono Entrare Perché abbiano Un porto Di approdo In questo modo Si avrebbe Il porto Di approdo E si supererebbero Anche I divieti Posti dal decreto Clini Che fu I due ministeri Ministeri dell'ambiente Ministeri delle infrastrutture Che di fatto Hanno bloccato L'attività croceristica Verso Ischia Dal 2013 Quando poi Stava prosperando In un modo Molto molto interessante Con dei numeri Veramente notevoli Sia sotto il Profilo commerciale Sia sotto il profilo Promozionale L'attuale gestione Del porto Di Casa Minciola Non è quella giusta È il commento Del giornalista Peppino Mazzella Nel porto turistico E commerciale Ci sono tre concessionari Occorrerebbe un solo gestore Se mai visto Pubblico privato Per Mazzella Nell'area antistante Il complesso Del Piemonte della Misericordia Potrebbe nascere Un piccolo Porticciolo turistico Sentiamo Un porto bellissimo Fatto anche Da tante imbarcazioni Da di porto Ma secondo te La gestione È quella giusta? No Perché questo è un porto Turistico Commerciale Dove in questo Specchio d'acqua Ci sono Tre concessionari Perché la competenza Sul porto La concessione Non la dà il comune Ma la dà la regione Ci sono tre concessionari Di cui Due privati E uno pubblico C'è la Marina Di Casamiccia Che ha Questa Insomma la logica Un porto Per farlo bello Sia commerciale Sia turistico Occorre un sol gestore Che potrebbe essere misto Cioè dire Privati E pubblico messo insieme Per fare Quell'area sotto Al Piemonte Della Misericordia Quello lì Quella scogliera La famosa ancora Quell'altro versante Quella lì È di competenza Comunale Perché lì Ci sono anche Un altro paio Di concessione In quel caso Quella concessione È comunale Perché si tratta Di scogliere E non di porto Lì potrebbe nascere Un piccolo porticciolo Turistico Insomma L'assetto del territorio Potrebbe diventare Una cosa seria I comuni Avrebbero dovuto fare Il piano urbanistico Comunale Nessuno lo ha fatto Con la legge Di taglia la tele Di 5-6 anni fa Solo il comune Di Serrara Fontana Lo sta facendo E lo ha già presentato Lo studio Ferrara Di Firenze Lo ha fatto Però Quando fu presentato A Serrara L'architetto Citava sempre L'isola di Isca L'isola di Isca Cioè a dire Non si può fare Un piano comunale Che non sia intercomunale Cioè È un sistema Classico Che si è fatto Da sé E che ha tenuto Soprattutto Negli ultimi Vent'anni Una assenza Totale Del comune Cioè a dire Della politica La politica Ha contato poco Negli ultimi Vent'anni C'è la logica Del liberismo Andiamo avanti Però andiamo avanti Con molta difficoltà Potremmo Vivere meglio Ore prima di venire Soccorso L'autista del pullman Rimasto bloccato In località Suchivo A Serrara Fontana Il pullman In regolare servizio Ha esaurito Il carburante Davvero Un episodio Di grave Malagestio Del servizio pubblico L'autista Non ha potuto Far altro Che accostare Il mezzo E far scendere Il passeggeria Poi provveduto A telefonare In azienda Erano le 17.20 Ma da allora Nessuno è intervenuto Per diverse ore Sembra ci sia Una sola squadra Di intervento Che era costretta Contemporaneamente Ad operare Su un altro pullman Fermo Questa volta Per guasto Alla Chiaia A Forio E successivamente Poi si sarebbe Recata Con tanto di Tanica Di gasolio A Suchivo Davvero Una giornata Nera Quella di oggi Velle a bus Ma visti i tanti episodi Che stiamo segnalando Possiamo affermare Senza ombra di dubbio Che non è la sola Di questa stagione E sicuramente Ce ne saranno Ancora altre Non è ancora noto Il motivo Dell'affondamento Del cabinato Tipo Again Di proprietà Di Silvio Iodice 90 anni Ex primario Dell'ospedale Cardarelli Di Napoli Uscito ieri Con altri due amici Per una battuta Di pesca Danissida Le ricerche proseguono Anche con l'ausilio Di alcuni elicotteri Iodice E l'unico Ancora disperso Dei tre Gli altri due Nafraghi Di 28 e 70 anni Secondo i medici Dell'ospedale Capilupi di Capri Dove sono ricoverati Non sono ancora in grado Di affrontare Un interrogatorio Per collaborare Con gli inquirenti Le ricerche Del disperso Andranno avanti Anche la prossima settimana Troppe imbarcazioni In pochi metri A Capri Scatta il divieto Di attracco Per le barche A marina piccola In particolare Sull'imbarcadero Dello scoglio Delle sirene Obiettivo salvaguardare Uno dei posti Più belli dell'isola Stabilito è stato Il sindaco di Capri De Martino Che ha pubblicato Sull'albo pretorio Un'ordinanza urgente Che pieta l'attracco Per il periodo Compreso tra il 17 luglio E il 30 settembre Dalle 9.30 Al 17 Il divieto Riguarda tutte le imbarcazioni Ad eccezione Di quelle di pescatori E di portisti Residenti sull'isola Degli stabilimenti Baneari Dell'isola E dei tender Di grandi imbarcazioni In rada Vento forte E mareggiate Caratterizzeranno Secondo i meteorologi La giornata di domenica In Campania E nelle altre regioni D'Italia Infatti nelle prossime ore Sarebbero in arrivo Forti venti Dai quadranti settenzionali Che interesseranno Prima l'Emilia Romagna Per poi estendersi Anche alle altre regioni Anche meridionali Sulla base quindi Delle previsioni disponibili La protezione civile Ha messo Un avviso Di condizioni meteorologiche A berse Dal pomeriggio Di oggi sabato Fino al mattino Di domani Quando interesserà Anche la regione Campania La pillola Del giorno dopo In vendita in Italia Da ormai molti anni Permette di evitare Una gravidanza In seguito al rapporto Non protetto È un presidio Che ha un ruolo importante Nel ridurre i casi di aborto Nella fascia più giovani Della popolazione È il commento Del dottor Carmine Barile Sentiamo La pillola del giorno dopo Come ormai tutti quanti sanno È un medicinale Che si prende Dopo aver avuto Dei rapporti non protetti E si è a rischio Di gravidanza Allora Ne parliamo Con il dottor Carmine Barile Che ci spiega Esattamente Come funziona E se ci sono Delle controindicazioni Come assumerla E quando Allora Innanzitutto Un farmaco E come tutti i farmaci Può avere Delle controindicazioni Indubbiamente Quindi Va sempre in genere Suggerita Dal medico Anche se oggi Un maggiorenne Può Tranquillamente Andare in farmacia E prendere le pillole Di vecchia generazione Chiamiamole così Del giorno dopo Proprio per dare La possibilità A tutti Di accedervi Perché Perché se presa Nelle prime ore Dopo il rapporto A rischio Rottura di un preservativo O quant'altro Indubbiamente Questa funziona Ed evita Una gravidanza Indesiderata Che a sua volta Poi evita Un eventuale Aborto Procurato Quindi voglio dire È un rimedio Sicuramente Efficace Che va Consigliato In modo particolare Poi in pazienti Che possono avere Delle patologie Oppure Negli adolescenti Oppure In soggetti In tarda età Diciamo così Dopo i 45 anni Che hanno paura Di poter avere Una gravidanza Non solo indesiderata Ma anche Ad alto rischio Sia proprio Sia per il nascituro Per cui Certamente Non si può Non porla Fra i vari rimedi Nel momento in cui Uno ha Un momento Di Diciamo Di difficoltà E può essere presa Anche dai minorenni I minorenni Però devono recarsi Presso il centro In ospedale Oppure presso un medico Oppure Presso i consultori Anche senza La presenza del genitore Basta che ci sta Con la presenza Diciamo di un maggiorenne Di un fratello Più grande Proprio per evitare Poi Che si sappia Che abbia Rapporti non protetti Insomma A tutela Ieri sera Si è tenuto presso L'hotel Zaro di Forio In una fantastica cornice La chiusura Dell'anno Lions Della sezione di Ischia Il presidente Dottor Gallitelli Ha menzionato Nel suo discorso Il percorso fatto Nella stagione 2016-2017 È stata rivolta A particolare Attenzione Al mondo dei giovani Al lavoro E all'inserimento Delle persone Con disabilità Inoltre Su richiesta Dei soci Ha dichiarato Di aver accettato Di ricoprire Il massimo mandato locale Anche per la prossima stagione L'occasione Che permetterà A tutto il gruppo Lions Di Ischia Di poter meglio Perseguire Gli obiettivi Prefissati Parliamo del Procida Calcio Sasabardet Lascia e scrive Grazie a tutti Mi sono sentito a casa È stato per anni Il portiere del Procida Dalla prossima stagione Non lo sarà più E lascia Con una bellissima lettera aperta Grazie di vero cuore Scrive tra l'altro Non mi avete mai fatto sentire solo Mi avete sempre mostrato Tanto affetto Facendomi sentire Veramente come un figlio Per me è stata Una scelta difficile Concludo Con ringraziare In particolar modo Coloro che mi hanno permesso Di vivere questo sogno Domenica ritorna ad esibirsi Nella Recital Hall Della Mortella Il giovane e talentuoso Chitarrista napoletano Di origine peruviana Francesco Scelzo Che ha sempre ottenuto Uno straordinario successo Di pubblico Nelle sue passate esibizioni Per la stagione concertistica Della Fondazione Walton L'appuntamento è alle ore 17.30 Nella Sala Recite Dei Giardini La Mortella A Forio Lunedì prossimo 17 luglio Inizierà sull'Isola Dischia La terza edizione del torneo Di calcio a 5 Coppa Drink and Drunk Che durerà poco più di un mese Per la prima volta Il Build Cup Si giocherà interamente Al palazzetto dello sport Federica Tagliallatela Di Ischia Ed ora come sempre Spazio al meteo Vediamo che tempo farà Sulla nostra regione Previsioni per oggi Al mattino Sulle coste Parzialmente nuvoloso Con schiarite prevalenti In montagna Schiarite alternate A nudi sparse Nel pomeriggio Sulle coste Schiarite prevalenti Ma con possibili Brevi temporali In montagna Nubi irregolari Con deboli temporali Previsioni per domani Al mattino Sulle coste Bel tempo Con cieli quasi sereni In montagna Bel tempo Con cieli quasi sereni Nel pomeriggio Sulle coste Bel tempo Con cieli sereni In montagna Bel tempo Con clima molto ventoso Bene Chiudiamo questa edizione Del nostro telegiornale Vi auguro buona domenica E ci rivediamo come sempre Lunedì alle 14 Arrivederci Nel pomeriggio E ci rivediamo come sempre E ci rivediamo come sempre